Roberto Mori è il preparatore di questa BMW, che macchina è intanto? È una turismo derivata da serie con alcune preparazioni specifiche per il tipo di categoria che Amedeo ha deciso di affrontare che è la categoria E1 Italia dove ci sono permesse diverse modifiche da fare e quindi la vettura ha delle migliorie abbastanza importanti rispetto a quella di serie. È un po' complicata, particolarmente sulle trazioni in uscita dalle curve. Abbiamo lavorato, spero, al meglio per fargli avere la trazione possibile per superare questo problema. Un preparatore è sempre innamorato della sua macchina. Che possibilità ha effettivamente questa BMW di far bene in questo campionato? Il preparatore è sempre innamorato, questo sicuramente. Per quanto riguarda le possibilità, a pari di altre della sua stessa categoria, non dovremmo avere nessun problema. Il guai è che nella stessa categoria abbiamo delle altre vetture, tipo delle Delta Integrali Turbo e altre vetture un po' più performanti, dove lì sarà un po' più complicato riuscire a metterla davanti. Ma le speranze non sono mai perse, quindi vediamo se riusciamo a fare del nostro meglio. Dopo un secondo posto e la vittoria del campionato due anni fa, si tenta di stare a livelli di vertice? Direi di sì. L'entusiasmo è tanto, la voglia ancora di più di riuscire a mantenere alto il nome della mia macchina e anche di tutti i miei amici che porto con me, che mi aiutano a realizzare questa impresa che non è semplice per tanti motivi. Dove nasce la passione per un medico di guidare e anche bene queste macchine? La colpa è di mio padre, perché un po' di anni fa mi ha cominciato a mettere sulle macchine da corsa a lui con i kart quando avevo 11 anni e è una passione che è continuata fino ai giorni miei adesso. Sei preso una BMW? No, io ho corso per tanti anni con un Alfa Romeo, con la quale ho vinto sei campionati italiani e negli ultimi cinque anni con questa BMW con cui ho vinto due campionati italiani. Le difficoltà di questo campionato? Le difficoltà sono fondamentalmente economiche e in secondo tempo anche difficoltà tecniche perché la mia macchina ha 510 cavalli, con una trazione posteriore, è un 5.000 di cilindrata quindi è una macchina molto impegnativa che richiede preparazione fisica e mentale insieme. Ormai siete adottati qui a Campri? Sì, io sono stato veramente adottato. Da quando sono arrivato come primario a Teramo l'affetto di tutti gli abruzzesi e di questo posto mi ha reso veramente un cittadino di questa zona e quindi sono felicissimo di questo e questo mi rende ancora più partecipe e desideroso di ben figurare. Grazie!